Dusu, io rinuncio a te! Riporta! Hai perso, Ladybug! Finalmente! La palla! Del cane! Felix, lo yo-yo significa che hai miraculus! Il mio più grande desiderio si è finalmente avverato! Ladybug, cerca di calmarti! Pensa, ci deve essere un modo per riavere il tuo yo-yo! Sì, forse se mi ritrasformo e... Fanno! Sei al sicuro? Non lo so più, io... E se fosse una trappola, se tu fossi Felix? Deve fidarti di me una volta, fa che sia questa volta! Ritrasformami! Ti prego, Tiki, sbrigati! Non puoi avere tutti i miraculus! Ti prego, fa che ne sia rimasto qualcuno! Ti supplico! Ritrasformami! Bark, io rinuncio a te! Pronta! Tiki, trasformami! No! Non ci sono più! Ladybug? Ha perso!